Amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro italiano di fantacalcio, sempre collegati, sempre connessi per le news di ultime di mercato, le ultime di fantacalcio, di calcio, insomma, sempre collegati questa settimana, anche se c'è la pausa nazionale. Oggi, venerdì, 26 marzo, l'Italia ha vinto ieri contro l'Ideranda 2-0, una prova convincente a metà. Primo tempo ottimo, secondo tempo un po' così così, soprattutto dal punto di vista difensivo. Abbiamo portato a casa comunque i tre punti, che è quello che conta, che è ciò che è importante. Anche in queste settimane di pausa, come avete visto, ho sempre presente video un po' di spoiler per il prossimo anno, quindi Empoli, strategia, poi anche i nomi nuovi per l'anno prossimo. Live costanti con Fabio Vergomi, con Andrea di Planet Twin. Grandissima live, grandissima live anche quella 3, con Re Costa e con il Profeta ieri. Se riesco più tardi faccio una live per essere ancora più di supporto per il canale, quindi vi terranno sempre presente. Supportatelo con un'iscrizione, con un passaparola, con un po' di pubblicità del canale, vi fa sempre molto molto piacere, sono sempre attivi, come sapete, gli abbonamenti, che questa è una forma per supportare il veterano, non ha, come dire, un esborso veramente limitato, però può essere veramente un grande supporto per il veterano. Trovate tutte le informazioni per gli abbonamenti, appunto, nella home page del canale YouTube. Ringraziamo ancora una volta Magic Goal, gli amici, trovate il link qui sotto per scaricare la loro app, molto interessante appunto dal punto di vista di calcio e fantacalcio. Andiamo subito al video, di cosa parliamo oggi? Parliamo un po' di aggiornamenti calciomercato, contratti di scadenza 2022, anche queste sono informazioni molto molto importanti per tutti i fantallenatori, quindi massima attenzione a quello che andrò a dirvi tra pochissimi secondi. Parliamo innanzitutto di casa Juventus, si parla di Orams e di Rabiot, potenziali partenti per il prossimo anno, direzione Inghilterra, quindi vuoi Manchester City, vuoi Everton. Vedremo appunto come saranno gli sviluppi in casa bianconera. Sempre in casa bianconera si parla molto di CR7, se sta o se resta, se va o se resta. E se dovesse restare, CR7 si sta pensando un nome di affiancare a lui, per farlo invogliare un po' come era il Madrid con Benzema. Si parla molto del Cane de Cunaguero, si parla di molto di Cane, ex Juventus anche lui. Vedremo se appunto la dirigenza bianconera riuscirà a portare questioni importanti in casa bianconera. Stiamo a vedere perché appunto con loro sicuramente la Juventus diventerà ancora più europea a livello dei giocatori, stiamo a vedere un po' sulla panchina che andrà a sedere. Parliamo di Miran, Franco Varesi si è espresso, vuole Donnarumma come rinnovo contrattuale, vediamo se appunto la trattativa quadriola andrà a buon fine oppure no. E vuole assolutamente la conferma di Tomori, l'ha apprezzato come difensore, un ex grande difensore come Franco Varesi sicuramente sa dire la sua. E su questo nome sicuramente ci speriamo concordemente con lui. Parliamo di Roma, il futuro di Fonseca ormai pare destinato a concludersi sullo spondaggio rossa. Ci sono tre nomi importanti da affiancare, da affiancati alla panchina giallorossa. Si parla di Allegri, si parla di Sarri e si parla di Consensao al porto, Sergio Consensao. Stiamo a vedere quali saranno le prospettive, sicuramente la Roma sta investendo parecchio, quindi questa cosa mi fa molto molto piacere, soprattutto per quanto riguarda il discorso calcio e fantacalcio. Parliamo di Singo, c'è un interessamento del Miran, ma attenzione c'è anche un interessamento molto molto forte del Liverpool. Si parla di 20 milioni per Singo, il laterale del Torino sicuramente sarà un nome che sulle casse di Cairo peserà moltissimo in entrata. Parliamo di due top di centrocampo del fantacalcio, parliamo di Veritu e di Chessy. Entrambi sono le prese con il rinnovo contrattuale, dovesse esserci il rinnovo contrattuale di entrambi, sarebbe un ottimo colpo per tutti i fantacalcisti che hanno investito su di loro. Chiudiamo un po' questa parte per quanto riguarda i potenziali colpi di calcio mercato. Il Milan cercherà per il prossimo anno un esterno offensivo importante. Sull'agenda di Maldini ci sono due nomi, Tauven del Marsiglia, Orsolini del Bologna. Attenzione che per Orsolini la richiesta è di 20 milioni di euro, quindi una cifra veramente molto molto importante. Staremo a vedere se la dirigenza Rossonera riuscirà a soddisfare queste necessità. Parliamo ora dei contratti in scadenza nel 2022, perché ci sono nomi veramente di livello. Avete visto che quest'anno comunque, come preannunciato, i giocatori in scadenza hanno avuto un rendimento non esaltante, quindi sono nomi da tenere sotto agenda e sotto circoletto rosso, come dice Boriano Tommasi. Ci sono parecchi nomi, alcuni anche nel campionato italiano. Abbiamo ad esempio, in Italia, Lorenzo Pellegrini che scade nel 2022, valore di mercato attuale sono 37 milioni di euro. Cesura del Bayern Monaco, un difensore, anche lui 37 milioni di euro. A 40 milioni di euro ci sono Berotti del Torino in scadenza nel 2022. Brozovic, anche lui 40 milioni di euro. E Carvalder, al Madrid, 40 milioni di euro per il laterale destro della Casablanca. Savitzer, del Lipsia, 42 milioni di euro. Lorenzo Insigne, anche lui in scadenza, 48 milioni di euro. E che sì, ne abbiamo parlato prima, in scadenza il suo valoratore di mercato è pari a 50 milioni di euro, quindi una grande plusvalenza per il giocatore mediano centrale del Milan, ma che gioca anche in molta fase avanzata e che è un ottimo spunto per quanto riguarda i rigori. Enverede, Barcellona, in scadenza nel 2022, anche lui 50 milioni di euro, così come 50 milioni di euro li va al CR7 in scadenza nel 2022. E su di lui chiaramente c'è da fare un ragionamento più di grande portata su CR7. Stiamo a vedere quali saranno i sviluppi, se resterà a Torino o se ritornerà a Real Madrid. Attenzione, nome importantissimo, D'Arren, Kamavinga, 60 milioni di euro. Lui è un nome che mi piacerebbe molto vedere in Italia, dovreste arrivare in Italia, chiaramente dovreste subito acquistarlo a fantacalcio. Paolo Di Bala, in scadenza, la gioia, 60 milioni di euro. Pogba, anche lui, 60 milioni di euro in scadenza. Pedri, del Barcellona, 70 milioni di euro, giovane molto interessante. Varane, del Real Madrid, 70 milioni di euro. Goretzka, che è un po' il pirasco del Bayern Monaco, anche lui in scadenza nel 2022, 70 milioni di euro. Fatide, Barcellona, anche lui giovanissimo, 80 milioni di euro. Poi colpi di mercato straordinari, ma che magari non saranno del nostro campionato. Si parla di Neymar, 128 milioni di euro. È l'uomo copertina che c'è qua. Kylian Mappé, 180 milioni di euro. Credo che lui voglia andare a Real Madrid, un club veramente prestigioso. Siamo a vedere quali saranno i destini del giocatore francese, numero 10, veramente straordinario a livello di Francia. Abbiamo anche, come vi dicevo, paracchi italiani, vi ho già evidenziato. Attenzione a loro, attenzione anche ad altri nomi che per i fantacalci sono molto, molto interessanti. In scadenza nel 2022 si parla di Gossens, si parla di Romagnoli, Milenkovic, Calabria, Freuler, Boga, Gimsiti, Bernardeschi, Pessina, Quadrado, Stracoscia e Attebor. Quindi entrambi gli esterni dell'Atalanta sono in scadenza. Quindi attenzione perché il prossimo anno potrebbe essere l'anno buono per Maile, che comunque andrà a prendersi un posto sicuro tra gli esterni di centrocampo della Dea e dell'istato ancora difensore. Io vi ringrazio. Ci saranno aggiornamenti continui come pillole di questo tipo su fantacalcio e calciomercato. Argomenti molto interessanti. Dobbiamo già prepararci per il prossimo anno. Ormai ci siamo quasi a fine marzo, quindi dobbiamo per forza entrare in argomento. Ci saranno gli europei. Tante, tante novità per il canale. Stiamo vedendo se riusciamo a preparare anche il fanta europeo. Sarebbe veramente un colpo molto, molto interessante. Per far crescere, per far questo vi ricordo di far crescere il canale tramite un po' di condivisione, un po' di passaparola, tramite i vostri social e tramite anche gli abbonamenti per chi vuole fare e supportare il canale. Sono attivi gli abbonamenti, sono di poco prezzo. Veramente grazie di cuore a chi vorrà iscriversi al canale YouTube del veterano del fantacalcio. Vi ricordo infine che il fantacalcio è il gioco più bello del mondo per il calcio, quindi siamo protagonisti di un gioco veramente meraviglioso. Grazie di cuore a tutti. Ci sentiamo dopo per la live, se riesco. E buon fantacalcio a tutti. E buon fine settimana a tutti. Ciao ragazzi!